Ciao a tutti, cosa fare quando un uomo improvvisamente cambia atteggiamento? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, può succedere che nella relazione con una donna un uomo cambia improvvisamente atteggiamento, nel senso che magari prima inseguiva, era disponibile, faceva un sacco di cose e poi dopo si distacca. Apparentemente potrebbe anche non essere successo nulla, in realtà è successo sempre qualcosa. Allora, cerchiamo di capire questa modalità. Allora, la prima cosa che potrebbe essere successa è che, diciamo, c'è stato un contatto fisico. E allora, questo contatto fisico ha portato al fatto che l'uomo aveva quell'obiettivo, esaurito quell'obiettivo, si distacca, non gli interessa altro. Questo può succedere. È per quello che è meglio mettere dei vincoli all'inizio, andare in modo graduale a fargli prendere degli impegni. Può succedere perché l'uomo può avere questo interesse di natura puramente istintiva, diciamo così. Non è detto che succeda sempre. Talvolta succede quando a questa natura istintiva è abbinato il senso del possesso marcato. Quando è abbinato il senso del possesso marcato, cioè il voler, lo sgancio sul possesso, diciamo, un trauma da distacco, cioè una persona che vuole inseguire e nel momento in cui, perché vuole vivere i distacchi, se non glielo fa vivere l'altro se lo vive lui, lo se lo autosomministra. E questo è un caso in cui dopo un contatto c'è subito un distacco. Talvolta non c'è neanche un contatto fisico vero e proprio, magari soltanto qualcosa, insomma, così, o non si capisce bene, ma basta quello, basta l'idea di avere la disponibilità del possesso che comporta un distacco. Che comporta un distacco e questo distacco si può effettuare soltanto quando hai l'idea di avere un appagamento, di avere un possesso. Quindi talvolta ci sono uomini che hanno un desiderio di vivere tensioni talmente forti che, di voler vivere tensioni dal distacco talmente forte che gli basta anche l'idea che lei ci sta, neanche che ci sta fisicamente realmente, basta questa idea che lei è innamorata, che lei è per saturare e si distaccano. E ovviamente sono persone queste che se vuoi mantenerle devi trattarle con un, diciamo, devi trattarle e somministrare emozioni molto forti, quindi devi fuggire, devi farli vivere dei distacchi molto forti, devi somministrarli, farli sentire impediti praticamente. Poi ci potrebbe essere una motivazione logico-razionale. Questo può anche succedere qua, diciamo, che capisce che non sei da qualche cosa, non si sa che cosa, che da un punto di vista cognitivo non sei la donna che va bene per lui. Questo sono per motivi logici. Potreste essere troppo vecchia, troppo giovane, troppo grassa, troppo magra, troppo alta, troppo bassa, troppo ricca, troppo povera, troppo acculturata, troppo poco acculturata. Tutti i motivi, diciamo, logici di questo mondo, magari ce n'è qualcuno per cui tu, alla sua parte logica, non vai bene e allora si distacca. Ecco, queste sono le motivazioni per cui ci può essere un distacco. È ovvio che è importante cercare di capire quale tra queste, perché potrebbero essere tutte, cercare di capire qual è e una volta capito qual è la motivazione, cercare di mettere i rimedi. Quindi mettere i rimedi vuol dire che se è una motivazione logica, serve un grillo parlante, che vada a ristrutturare, che vada a dire delle cose. Per dire, nonostante lei sia povera, potrebbe andare bene per te, la donna giusta. Non guardare soltanto il conto economico, guarda anche il tipo di donna, per fare un esempio. Se hai una motivazione emozionale, devi cambiare il comportamento e stimolare l'emozione. Se riguarda un effetto pelle, lì è un po' più difficile, potrebbe essere che magari ha contatto, l'alito, il gusto, cioè qualcosa che non gli piace, quindi lì bisognerebbe un po' vedere, capire, ma l'importante è capire e cercare di mettere l'antidoto. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, Felicità Benessere, di tutti i posti i link in descrizione. Ciao a tutti!